Pronto? Allora Vittorio, parlaci delle novità del nuovo NACRA. Le novità sono poche ma sostanziali, le vedete qua, uno è questo, il timone, che ha rispetto alla vecchia barca questa superficie orizzontale che permette di generare portanza e l'altra è la deriva, che è questa qua, deriva off oil, come si chiama, che sono queste deriva con questa tipica forma Z e queste due, quattro appendici in realtà permettono alla barca di sollevarsi dall'acqua, un po' come abbiamo visto fare Catamaran di Copa America, quindi diciamo cambia molto poco guardandola da fuori, la barca come la vedete è simile, adesso hanno cambiato un po' i colori ma concettualmente non c'è nulla di nuovo, righe saranno lo stesso, le stesse vele, hanno fatto un genna che è leggermente più magro ma appunto le grosse novità sono queste che stiamo provando in questi giorni per mettere nella barca di volare già con sette nodi di vento, di poppa. A livello di sensibilità è molto diverso sul timone? Sì, è molto, navighi per il 70-80% delle condizioni come ti sentissi sulle uova, cosa è che col vecchio Nacra succedeva 5-10% del tempo, qua succede 70-80%. La barca è appena arrivata, avete già un campionato europeo la prossima settimana, in effetti la flotta è pronta o sono tutti nelle stesse condizioni? Da quanto tempo hai la barca? La flotta non è pronta, non sono tutti nelle stesse condizioni, vabbè l'altra, ecco aggiungo, l'altra novità è questa, i caschi, cioè proprio per agganciarmi al fatto della flotta è pronta. Il sailing si sta interrogando molto su come adeguare le regole a un contesto comunque di sicurezza che bisognerà adeguare a questa nuova classe che sarà molto acrobatica e probabilmente può essere anche pericolosa perché noi abbiamo ricevuto le barche da 10 giorni e la maggior parte dei velisti non sarà probabilmente in totale controllo, quindi c'è stata un po' di polemica dopo, questa è la situazione, noi comunque vogliamo andare a regattare e questo faremo. Per semplificare, le prestazioni sono aumentate di quanto? 10% rispetto alla barca precedente? Dipende, in certi contesti sono aumentate anche del 50%, cioè di poppa con 8-9 nodi la barca va veramente più veloce, quelle che sono le velocità di punta in realtà ad oggi non abbiamo ancora fatto velocità tanto superiore a quella vecchia, quindi ci sono contesti in cui la barca è molto più veloce, altri in cui è comunque più lenta, con 5 nodi questa barca è più lenta della barca della vecchia generazione, sicuramente più divertente.